Ben trovati a tutti, fra pochissimi secondi la sigla finisce e noi cominceremo la nostra lezione fantastica che stasera sarà una lezione molto molto piena, molto ricca di insegnamenti, di insegnamenti della Parashah e anche di insegnamenti del mese di Ellul che siamo adesso fra poco a Rosso Shanaki pur perciò cominciamo già a parlare di queste cose importanti però prima di cominciare la lezione come ogni volta mettiamo le monete in CDK come vi hanno spiegato che da questo mese in poi ogni volta prima della lezione daremo CDK e ricordiamo a tutti ogni giorno di mettere qualche moneta non deve per forza essere un bossolo della CDK può essere anche un bicchiere, una giara, quello che volete però l'importante è che poi quando i soldi si accumulano li date nei posti giusti, dove è di dovere. Come abbiamo scritto nel titolo questa sera la lezione è dedicata a una famiglia molto molto speciale molto vicina a noi, molto vicina a me che li conosco da infanzia, eravamo a scuola con i ragazzi da piccoli insieme praticamente il signor Gabriele Levi stasera dedica questa lezione non meno che a sua moglie Emy che questa settimana fa il compleanno perciò facciamo tanti tanti auguri a Emy Levi, a Gabriele stesso che a Shan vi dia una lunga vita piena di soddisfazioni, di gioia, di salute, di vedere la gioia dei vostri figli, nipoti e tutte le famiglie Bezat Hashem che sono veramente una famiglia, famiglie speciali perché ormai sono sposati e Baruch Hashem, Bezat Hashem che Hashem vi possa benedire in tutto il bene che volete, che meritate e lui l'abbiamo scritto nella diretta, lo dedica a suo figlio Davide, alla moglie Lilli, alla figlia Deborah, a Rami a tutti i nipotini, i nomi li abbiamo scritti e ognuno di loro possa veramente Bezat Hashem ricevere tante tante benedizioni un saluto speciale anche Alessandra Riem che insieme alla sua famiglia, al figlio, la nuora, i nipotini sono in diretta e ci stanno ascoltando tutti quanti a proposito di nipotini, così mi è venuto in mente adesso ci sono tanti bambini piccoli che seguono, non dico questa lezione perché è un po' lunga, un po' più difficile ma i video, quelli brevi, quelli dei tre minuti, sono tanti bambini che l'hanno visto dalla mamma bambini di 8, 9, 10 anni, sia qua che in Israele, bambini che parlano italiano, ex romani e hanno chiesto alla mamma per favore di chiamarmi e di metterli nella lista che loro vogliono ricevere ogni settimana il breve video e questo veramente, veramente scalda il cuore il fatto che noi riusciamo ad arrivare a così tante persone di tutti i tipi, di tutte le città di tutti i paesi ormai e anche di tutte le età perché appunto anche i bambini piccoli ci seguono ma in realtà siamo tutti bambini piccoli perché abbiamo un cuore di panna molte volte crescendo diventiamo un po' diversi ma noi ricordiamoci che siamo tutti dei bambini e dobbiamo coltivare il bambino che c'è in noi ok, Parashah Kiteze, ma prima di cominciare a Parashah vorrei raccontare un piccolo aneddoto come settimana scorsa vi ricordate abbiamo spiegato che siamo nel mese di Elul, il mese del resoconto il mese dove Dio esce nei campi ed è vicino a tutte le persone ed è vicino a tutte le persone che gli chiedono di aiutarlo, gli chiedono benedizioni perciò Dio è il mese che si trova fuori nei campi vicino a tutti noi perciò abbiamo spiegato che questo è il momento buono per poter ognuno di noi fare teshuva vuol dire migliorare, ma non per forza in tutte le cose che abbiamo sbagliato ma cominciare a migliorare una cosa alla volta questo è il mese della teshuva, è il mese del ritorno perché appunto il re si trova, Hashem è fuori, è vicino a noi perciò andiamo a cercarlo proprio quando è vicino si racconta un aneddoto, una barzelletta, quello che volete c'era una persona che voleva cercare il suo masal sicuramente anche l'anno scorso vi l'ho raccontata questa storia ma la voglio ripetere per i nuovi, per noi stessi e così via ogni storia ripetuta vale la pena c'era questa persona che era a ricerca del suo masal masal vuol dire la sua fortuna, chiamiamola così e lui voleva trovare moglie, voleva avere soldi, avere salute cercava ma non aveva niente di queste cose gli hanno detto che se vai in una certa isola lì troverai il tuo masal allora lui prende la nave, arriva in questa isola entra in questa isola, in isola deserta e la prima persona, chiamiamo, il primo personaggio che incontra è un vecchio leone, tutto vecchio, malato, debole e leone dice ma tu chi sei? e lui dice sì sono venuto qui a cercare il mio masal e tu chi sei? dice io sono qua il leone, però stai sono vecchio ti prego visto che vai in giro a cercare il tuo masal trova anche il mio masal che io possa guarire anziché essere il re della foresta sono tutto debole e così via non ti preoccupare quando andrò in giro a cercare il mio masal troverò anche il tuo e te lo porterò va bene, va avanti nell'isola e si imbatte in questo albero in questo albero e dice che tu chi sei? adesso sta storia e dice io sono qua a cercare il mio masal e l'albero dice senti guarda per favore io sono un albero ormai, ho centinaia di anni ma non sono mai riuscito ad avere dei frutti per favore visto che cerchi il tuo, la tua fortuna puoi cercare anche la mia fortuna per avere almeno un frutto voglio in vita mia metterlo al mondo non ti preoccupare va bene, va avanti e mentre va avanti trova una principessa che era stata rapita dal palazzo reale era lì tutta incatenata in questa grotta dice ah guarda io sono qua incatenata per favore salvami fai qualcosa dice adesso adesso non posso non ho tempo andrò a cercare il mio masale troverò anche il tuo eventualmente ok lui incontra queste persone intanto va in giro in lungo in largo in tutta l'isola ma questo masale che lui cercava questa fortuna non la trova e allora cosa fa? torna indietro magari ha sbagliato l'isola tornando indietro rincontra tutte queste persone qua incontra la principessa dice senti guarda io il mio masale non l'ho trovato però il tuo sì il tuo masale è che verrà presto un giovanotto un bravo ragazzo ti libererà ti libererà da queste catene ti sposerà esserete felici contenti e potete finalmente tornare al tuo palazzo reale allora la principessa dice ok allora sii tu il mio salvatore salvami rompimi le catene sposiamoci non posso adesso sto cercando la mia fortuna lasciami stare e va avanti e incontra l'albero stessa storia io la mia fortuna non l'ho trovata però la tua fortuna che cos'è ho scoperto che sotto alle tue radici sotto terra c'è questo bottino questa scatola piena di oro argenti e diamanti e questo blocca la crescita dei tuoi frutti se tu riuscirai in qualche modo a togliere questa scatola tu finalmente potrai avere frutti e l'albero dice allora scava tira fuori queste ricchezze prendile per te tu sarai ricco e io troverò finalmente potrai avere dei figli dei frutti non ho tempo devo rincorrere la mia fortuna arriva il leone e stessa storia io la mia fortuna non l'ho trovata però la tua fortuna che cos'è che arriverà presto uno stupido tu lo mangerai e grazie che lo mangerai guarirai e diventerai forte diventerai il re della foresta come prima e ovviamente questo stupido era lui e lui lo mangia eccetera eccetera cosa vuol dire questa persona aveva trovato veramente il masal aveva trovato un bottino aveva trovato una principessa aveva trovato tutto quello che aveva bisogno però lui nella sua mente stava ancora cercando il suo masal non si era accorto che il masal era davanti a lui ed è questo il mese di Elul il mese di Elul è il mese del nostro masal della nostra fortuna è il mese che ognuno di noi può trovare tutta la gioia tutti i comfort tutto quello che desideriamo e cerchiamo è qui nel nostro mese basta soltanto andare a cercare basta aprire gli occhi e vedere che è tutto davanti a noi perché questo è il mese della misericordia perciò non facciamo come questa persona che ha sbagliato non ha capito niente della sua vita che continuava a cercare un qualcosa che era già davanti a lui Hashem è davanti a noi il mese di Rosh Hashanah è vicinissimo è davanti a noi Hashem ci sta dicendo venite uscite nei campi io sono qua per voi chiedetemi quello che volete vi darò tutto quello che volete parlate con me connettetevi con me tornate a me e io darò a voi tutto tutto quello che avete bisogno beh speriamo che veramente non facciamo lo sbaglio che ha fatto lui e di non capire quanta fortuna ha questo mese adesso arriviamo nella parasha di Chitezzè abbiamo un anno nuovo e l'anno nuovo non è soltanto sul calendario un nuovo anno non è che noi giriamo avanti le pagine perché è passato un altro nuovo a un altro anno nuovo e giorni che passano un anno non è soltanto un insieme di giorni noi dobbiamo rinnovare un qualcosa dentro di noi arriva Rosh Hashanah anno nuovo è vero ma se l'anno si rinnova e noi rimaniamo quelli dell'anno scorso l'anno va avanti noi rimaniamo indietro perciò anche noi dobbiamo rincorrere la novità dell'anno e anche noi diventare persone nuove in qualcosa ognuno di noi si deve rinnovare ringiovanire in qualcosa perciò è usanza sempre appunto prima di Rosh Hashanah che ognuno quando arriva a Rosh Hashanah di portare un dono Hashem vuol dire un qualcosa che noi rinnoviamo in noi stessi che sia una preghiera praticamente di cercare una mitzvah che finora non abbiamo fatto e dire io quest'anno per l'anno nuovo per qualsiasi cosa desidero che sia un anno buono io porterò farò una mitzvah in più che possa essere nell'ambito della preghiera nell'ambito del kasher dell'ambito della zedaka ognuno è giudice di se stesso ognuno sa quello che gli manca allora qua dice arriva l'anno nuovo rinnovati arriva con una promessa tra te e te che quest'anno aggiungerai un qualcosa alla tua vita spirituale ecco adesso studiamo nella parasha una cosa particolarissima di solito la parola mese che noi troviamo diverse volte nella Torah 66 volte se non sbaglio viene ripetuta la parola mese nella Torah però vediamo che la maggior parte delle volte 66 volte viene chiamato invece due volte si usa la parola yerach che vuol dire anche mese perciò chodesh e yerach entrambi vogliono dire la parola mese adesso quando noi troviamo la parola yerach quel nome insolito per chiamare e due volte soltanto nella Torah una è nella nostra parasha e una è nella parasha di quando parla di Mosè dopo spiegheremo adesso vediamo un attimo nel nostro contesto prendo la Torah e vediamo nel nostro contesto quando la Torah usa questa parola yerach e racconta un caso visto che la parasha parla chitezela milchama quando andrete in guerra e dice vera iteba shivya esitifatoar e uno dei soldati vedrà una donna una bella donna e lui avrà voglia di sposarla e di portarla a casa sua e di sposarla perché lui è in guerra è un ragazzo giovane e vede una bella donna e la vuole sposare ovviamente questo si parla di una donna del nemico di una donna che lui sta combattendo di una donna che lui ha già vinto allora dice ovviamente non dovrebbe sposarla per tutta una serie di cose perché non è del popolo ebraico e così via però dice qua visto che la Torah e questa è una cosa molto particolare questo passù questa frase non vogliamo entrare lungo e largo perché ci vorrebbe una lezione in sé per spiegare questa cosa qua però la Torah dice che Dio cerca di spingere di far passare il desiderio di questo giovane soldato di sposare questa ragazza proibita e dice la porterai in casa tua e lei dovrà radersi i capelli e dovrà farsi crescere le unghie e dovrà togliersi i bei vestiti da prigionieri perché loro i prigionieri si vestivano in modo per attrarre appunto i soldati e dopo cosa succede e dovrà rimanere come in lutto dovrà piangere suo padre e sua madre 30 giorni qua usa la parola non il solito chodesh ma e dice dopo di che dopo tutte queste cose che appunto la Torah dice giovane tu hai visto una bella ragazza una bella donna ti sei innamorato pensi che ti sei innamorato ma in realtà è soltanto un'attrazione fatale allora per non dirti no alla Torah cerca in qualche modo di persuadere questo giorno di aprirgli gli occhi di dire guarda che se tu sposi una ragazza specialmente in guerra che sei lontano da casa chissà da quanti anni e hai visto e ti sei invaghito sappi che se tu la sposi soltanto per la sua bellezza non è giusto non va bene perciò la Torah cerca di fare in modo che lui gli passi il desiderio di questa ragazza gli dice se vuoi sposarla però c'erano delle condizioni lei dovrà radersi i capelli a zero in modo che lei perdere la sua bellezza dovrà far crescere le sue unghie in modo che lui la veda non soltanto perché le ragazze come c'è scritto andavano con i bei vestiti attraenti togli i vestiti togli la bellezza togli la bellezza fisica per 30 giorni lei dovrà piangere i suoi genitori vuol dire che lei si stacca dai suoi genitori per entrare a sposare te se dopo tutto questo tu ancora vorrai sposarla allora vuol dire che non sarà soltanto un'attrazione ma vedi qualcosa in lei allora la Torah ti dà il permesso ok e questo è il punto dove noi troviamo la parola insolita Yerach anziché Chodesh per menzionare i 30 giorni i 30 giorni che lei dovrà piangere i suoi genitori ok in un altro posto della Torah come abbiamo detto la parola Yerach l'unica la seconda volta e basta nella Torah è quando nasce Mosè Mosè sappiamo molto brevemente che era il periodo che gli egizi volevano uccidere tutti i bambini maschi e l'ordine era tutti i bambini maschi dovevano essere uccisi buttati nel Nilo e allora cosa succede loro gli egizi sapevano esattamente quando le coppie si sposavano e sapevano che gli ebrei subito portavano bambini al mondo perciò avevano come un datario un schedario e sapevano che esattamente nove mesi dopo il matrimonio andavano a cercare in quella casa per trovare un bambino maschio e ucciderlo ecco Mosè Mosè era nato solo che Mosè era nato con tre mesi di anticipo a sei mesi succede in un bambino prematuro allora la mamma in questi tre mesi era tranquilla perché sapevano che lei sapeva che a lui sarebbero arrivati al nono mese perciò nei tre mesi che Mosè è nato la mamma era tranquilla l'ha allattato l'ha accudito per i tre mesi arrivato il nono mese allora la storia che l'ha messo nel nilo e così via questi tre mesi che lei l'ha nascosto in casa e l'ha accudito come li chiama qua Shalosh Yerachim di nuovo usa il mese la parola Yerach anziché il nome usuale Chodesh perciò qua dobbiamo capire che soltanto due volte in tutta la Torah viene usato questa parola una volta è per la donna attraente l'altra volta per Mosè è una cosa particolare cominciamo a capire un po' nella Ketubah quando due si sposano la Ketubah quello che si chiama il contratto di matrimonio chiamiamolo così c'è scritto visto che ci sono scritte le date e tutto quanto che questo è il tal mese del tal tal giorno tal mese tal anno ci scrive tutto nella Ketubah la parola Chodesh viene scritta nella Ketubah anche non viene usata la parola Yerach anche lì come di norma viene usato il nome Chodesh ma la cosa interessante è che se due persone mai sia mai sia divorziano nel Ket perciò nel nel documento che si taglia si strappa in tutto quello che si scrive perché due persone si divorziano che si chiama Ket lì non c'è più scritto Chodesh anche lì c'è la data il giorno e l'anno però lì si usa l'altra parola si usa Yerach perciò nella Bibbia nella Torah due volte viene detto Yerach e anche nel divorzio allora cosa tutto questo cosa ci viene a insegnare vuol dire così dice la Torah sappi giovane soldato che se tu sposi questa ragazza perché in queste sono delle condizioni che ti senti di sposarti perché sei giovane sei da solo vuoi una compagna e bla 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 e tu ti invaghisci soltanto della sua bellezza esteriore sappi che alla fine verrai a divorziare da lei anche se la sposerai però qua dice visto che si usa la parola Yerach quei 30 famosi giorni che lei doveva piangere si usa la stessa parola che si usa nel Get di quando ci si divorzia perciò i maessi dicono questa è un'allusione per dire ai ragazzi attenzione se sposi una donna soltanto per la sua bellezza sappi che poi verrai divorziati idem Mosè perché si usa quando Mosè è nato si usa la parola Yerach del divorzio perché la mamma cosa ha fatto la mamma ha dovuto distaccarsi dal suo bambino in un certo senso come un divorzio si è staccata dal suo bambino e l'ha lasciata nel Nilo perciò qua vediamo che Yerach è una parola che è sinonimo di mese ma si usa in situazioni tristi in situazioni che noi non desideriamo invece la parola Chodesh si usa per situazioni gioiose nel matrimonio scriviamo Chodesh quando è Rosh Chodesh capo del mese è un giorno gioioso Rosh Chodeshim il capo dell'anno è un giorno gioioso tutte parole che noi usiamo la parola Chodesh ma la parola Chodesh oltre a voler dire mese ricorda anche qualcosa Chodesh Chadash è la stessa parola sapete in ebraico ci sono le radici delle parole e certe parole certe radici possono avere diverse parole perciò ci possono essere diverse parole disparate che non hanno lo stesso significato ma avendo la radice uguale significano hanno lo stesso diciamo campo semantico perciò Chodesh che vuol dire mese vuol dire anche Chadash che vuol dire nuovo ogni cosa nuova abbiamo spiegato tante volte ci dà un'energia nuova una passione nuova una forza nuova un desiderio nuovo per esempio basta vedere la differenza tra due sposini novelli quando due sposini sono appena sposati il mondo è davanti a loro non esiste nessuno e si amano e escono e fanno e divertono e sono innamorati come mai più passa il tempo vediamo invece una coppia di sposati da 50 anni sicuramente l'amore non manca mai anzi in un certo senso il vero vero amore cresce sempre di più perché con l'amore intimo interiore però cosa si vede che la differenza è che qua è tutto fuoco sono sono contenti e felici pimpanti invece la coppia di 50 anni che sono sposati sono più tranquilli perché perché il tempo l'abitudine cosa fa spegne le emozioni nel cuore ovviamente sono più innamorati di questi giovanotti ma l'emozione della novità non c'è più ormai sono 50 anni che si sposano perciò la novità porta un'emozione nuova ogni cosa quando tu la rinnovi è viva e ti dà una forza in più perciò cosa succede per qua viene a spiegare che per essere felici bisogna sposarsi ogni giorno una coppia per essere felici non devono come quella bazelletta forse ve l'ho raccontata una volta che si ve l'ho raccontata che la moglie trascina il marito dal rabbino e si lamenta rabbino mio marito non mi dice mai ti amo non mi fai mai un complimento mai una rosa niente e il marito dice alla moglie ma scusami ma io 50 anni fa sotto il baldacchino alla cupà non ti ho detto ti amo ma sì se ci sono dei cambiamenti te lo farò sapere ovviamente questo non è un modo di come sposare una donna ogni giorno deve essere un giorno nuovo un giorno che tu dimostri amore a tua moglie che la moglie dimostra amore verso il marito e che ci si dice ti amo e ci si dà le coccole tutte queste cose che gli innamoratini fanno perché sono così tutti passionali e ardono di amore di fuoco perché per loro è una cosa nuova purtroppo poi ci si adagia ci si abitua e si dà per scontato che io ti amo invece no bisogna dirlo bisogna fare dimostrarlo perciò chaddash che vuol dire chodesh è tutta un'idea di rinnovare ogni giorno il proprio amore per la propria sposa per il proprio sposo infatti infatti parentesi non c'entra quel discorso ma lo diciamo una delle cose più geniali della Torah per aiutare una coppia sposata che cos'è le regole dell'annidà le regole della purezza familiare non stiamo a entrare qua in tutte le regole che ci sono ma il concetto di base che cos'è che una donna quando ha il suo ciclo oltre al suo ciclo ci sono sette giorni che non può diciamo avere intimità con il proprio marito non si possono neanche toccare neanche abbracciare perciò di norma cinque giorni del ciclo più alti sette giorni dove si chiamano shivaneki in i giorni puliti vengono chiamati perciò minimo 12 giorni al mese marito e moglie non possono avere intimità non possono abbracciarsi baciarsi non possono neanche sfiorarsi perché questo non siamo qua ad entrare per il motivo perché è un momento che la donna ha bisogno del suo spazio del suo momento della sua intimità sono giorni particolari per le donne e a loro non piace essere toccate è giusto dare il loro spazio il loro momento cosa succede qua quando la donna dopo 12 mesi va nel bagno rituale nel mikve e si prepara e si immerge torna a casa e di nuovo quella sera loro da quella sera in poi possono avere di nuovo intimità fino al prossimo ciclo cosa succede che in questo momento loro è come se si sono risposati di nuovo perché dopo 12 giorni che neanche si sfiorano non si possono neanche toccare potete immaginare la passione la voglia l'amore di stare di nuovo con la propria moglie e di nuovo la novità ecco la Torah ha voluto creare novità ogni mese nel matrimonio ebraico nella coppia ovviamente nei 12 giorni che loro non possono toccarsi ovviamente è un momento dove loro parlano di più anzi in realtà nei 12 giorni dove loro non si barito e moglie non si toccano sono giorni più intensi sono più vicini però sono vicini non col corpo sono vicini con la mente con il cuore sono giorni che si parla di più sono giorni che si dà più cura alla moglie visto che non c'è la parte fisica sono giorni che in realtà si sta più vicini ma in un modo più interiore più cuore e cuore mente e mente non soltanto corpo e corpo perciò qua vediamo la grandezza e la genialità del purezza familiare perciò e questo è chadash chodesh la parola shana shana cosa vuol dire? anno rosh hashana shana tova vuol dire anno la parola shana c'è un'altra parola simile shinui shinui vuol dire cambiamento cosa vuol dire cambiamento? appunto come dicevo prima essere diversi dall'anno scorso se io sto andando incontro a un nuovo anno non posso rimanere io uguale all'anno scorso devo fare un shinui shana shinui devo fare un cambiamento in me stesso perché se no non ha veramente alcun senso andare davanti all'anno nuovo e rimanere quelli primi perciò per terminare l'argomento della parashah tutte le feste che noi abbiamo abbiamo degli oggetti e di norma abbiamo diversi oggetti mi spiego fra poco sarà Sukkot fra un mesetto e noi scuotiamo le quattro specie no? sono quattro specie poi abbiamo Chanukkah Chanukkah abbiamo i lumi accendiamo due tre quattro otto lumi sempre tante cose poi abbiamo Purim che ci scambiamo i doni e diamo monete ai poveri sempre tante cose e poi arriva Pesach abbiamo le tre mazzot i quattro bicchieri avete fatto caso? tutte le festività sono di tante cose arriva Rosh Hashanah il capo dell'anno il giorno forse più importante dell'anno il giorno del giudizio e cosa abbiamo? cos'è la mitzvah del giorno? di suonare lo shofar la mitzvah del giorno di suonare lo shofar allora uno può pensare se a Pesach abbiamo quattro bicchieri e tre mazzotte eccetera allora a Rosh Hashanah doveva essere scritto che facciamo un concerto di shofar andiamo mandiamo al tempio dieci rabbini e ognuno suona lo shofar tutti in concerto insieme e accende il cuore niente di tutto ciò a Rosh Hashanah cosa facciamo? lo shofar che è la mitzvah del giorno è uno soltanto è un corno soltanto e non dieci corni o venti o quello che siano perché? perché tutte le festività tanti qua uno? perché ti dice Rebbe spiega su questo che quando vuoi cominciare l'anno nuovo non hai bisogno di tante cose come nelle altre festività basta una cosa quello un shofar ti insegna che quando arriva l'anno nuovo per rinnovarti per essere chadash basta che tu scegli una mitzvah una che finora non hai fatto che finora non hai capito non hai seguito e dici io quest'anno porto quel un shofar quel una mitzvah per cominciare l'anno nuovo e Rebbe spiega questo è il messaggio di Rosh Hashanah non ti chiede Dio di scombustolare tutta la tua vita di cambiare in tutto e per tutto ma di cambiare una cosa di aggiungere una cosa infatti il Kohen Gadol il sommo sacerdote quando entrava nel giorno di Kippur una volta all'anno lui entrava nel Kodashim nella parte più santa del santuario soltanto una volta all'anno una persona poteva entrare in quel luogo e pregare per tutto il popolo e lui aveva diversi vestiti ma quando entrava lì metteva un vestito bianco sembolo di purezza c'è scritto che quando lui usciva da lì e poi finiva il Kippur eccetera lui metteva via il suo camice bianco buttava via il camice bianco l'anno prossimo non poteva rimettere il camice dell'anno scorso vuol dire aveva un camice che ogni anno cambiava che veniva messo soltanto una volta quelle ore che lui lo usava lo usava finito Kippur lo buttava via e nessuno poteva più usarlo perché? per insegnarti che l'anno dopo l'anno prossimo quando tornerai dentro al santuario a di nuovo a espiare i peccati del popolo a fare il tuo lavoro non puoi avere lo stesso camice dell'anno scorso perché tu devi essere cambiato interiormente perciò il camice nuovo rappresenta la novità che ognuno di noi deve portare che anche in un semplice vestito il Kohen non poteva rimettere doveva cambiare per dirti devi rinnovarti ecco per rinnovare non vuol dire cambiare a 360 gradi basta una cosa che tu cambi e tu quest'anno sei nuovo sei una persona nuova ok questo era quello che abbiamo sentito da parasha di Kittetze adesso entriamo a parlare della mitzvah di Teshuvah noi tutto l'anno parliamo di Teshuvah Teshuvah non vuol dire penitenza Teshuvah vuol dire tornare a Dio penitenza è un è un è un modo diciamo cristiano per di fare Teshuvah perché per i cristiani tornare a Dio bisogna fare penitenza ma penitenza non è una parola ebraica infatti Teshuvah vuol dire tornare a Dio adesso noi stasera vedremo la differenza tra penitenza e Teshuvah ok e appunto è questo visto che è il mese della Teshuvah andiamo un attimo a studiare stasera in che modo una persona può fare Teshuvah con amore noi sappiamo che nel giorno di Kippur noi facciamo tutto il giorno preghiamo dalla mattina alla sera la sera prima e poi tutto il giorno si prega si sta in tempio a pregare una delle preghiere che viene ripetuta tantissime volte si chiama il Vidui il Vidui è la confessione brevemente sono le suppliche quello che si chiama i Tachanunim ogni giorno facciamo tra volte al giorno facciamo i Tachanunim quando battiamo sul cuore diciamo ho sbagliato peccato eccetera eccetera ecco nel giorno di Kippur facciamo un Vidui molto più lungo molto più dettagliato dei vari peccati che abbiamo fatto e lo facciamo molte volte facciamo una delle preghiere principali del giorno di Kippur si chiama Vidui vuol dire confessare i propri peccati è una delle regole della Torah il Maimode ne parla che quando è peccato devi confessare non a un'altra persona ma devi confessare a Dio parentesi cosa vuol dire confessare perché devi dire ho fatto questo sequestrato cos'è il concetto il concetto è che tu quando pecchi hai fatto uno sbaglio hai fatto un'offesa a Dio hai fatto un danno al mondo alla tua anima e così via quando tu vai davanti a papà quando un bambino ha rotto un vaso allora un bambino che è un po' piccolo un po' codardo ancora ha paura fa finta che non è stato lui anzi quando gli chiedono lui nega ma un ragazzo un po' più maturo sa che ha fatto uno sbaglio va dalla mamma al papà dice mamma il vaso l'ho rotto io non l'ho fatto apposta mi dispiace l'ho fatto io perciò questa è l'idea della confessione quando tu pecchi davanti a Dio e stai zitto e non dici niente non chiedi scusa non ammetti di avere sbagliato non è giusto ma quando tu fai un peccato eccetera e vai a confessare davanti a Dio Dio ho sbagliato ho peccato ho fatto questo e quest'altro lo ammetti ed è il tuo modo di come chiedere scusa a Dio tramite il fatto che tu stai in questo momento ammettendo e confessando che tu hai fatto questo peccato adesso abbiamo spiegato che a Kippur abbiamo tante volte questo vidui questa confessione ma c'è una confessione che noi facciamo una confessione particolare che noi la studiamo tra l'altro nella prossima settimana nella prossima parasha parla di questa confessione qua e adesso andiamo di nuovo prenderò la Torah e andrò a leggervi le poche righe che passa che parla di questa confessione e vedremo una cosa molto strana molto particolare e dice così quando parla prossima settimana parliamo della parasha delle primizie che si davano del 10% si davano i soldi le primizie al tempio poi la tzedakah e così via allora dice così quando porterai le tue primizie eccetera tu questa è la confessione e dirai davanti a Hashem ho pagato tutte le mie tasse vuol dire tutta la tzedakah che ero obbligato a dare tutto come si chiama le offerte le primizie che dovevo dare le ho fatte dopo di aver dato le proprie tasse la propria tzedakah le proprie offerte al tempio e così via la persona doveva dire ho fatto quello che dovevo fare ho tolto ho tolto dal mio dal mia ricchezza tutto quello che dovevo togliere l'ho donato e l'ho dato alla tribù dei Levi l'ho donato al Ger al forestiero l'ho dato all'iatom all'orfano alla vedova così come tu mi hai comandato di fare ho fatto dice la persona questa è la confessione lo avarti mi mitzvoteach veloce achati non ho trapassato non ho evitato nessuna mitzvah che tu mi hai ordinato e non ho dimenticato di fare quello che devo fare e poi va avanti va avanti nella sua confessione a dire sempre cose buone e giusto che lui ha fatto ecco questo si chiama confessione questa è una delle confessioni che noi facciamo settimana prossima nella Torah che è due settimane poco prima di Yom Kippur e diciamo che questa è una confessione scritta nella Torah qualcuno di voi qui ha sentito parole di confessione confessione quando tu hai fatto uno sbaglio hai fatto del male e dici ho sbagliato alza le mani chiedo scusa ma qui lui parla di cose positive che ha fatto che ha pagato la ZDK che ha pagato il 10% che ha pagato le primizie ma dove sta qua la confessione ha semplicemente raccontato le belle cose che lui ha fatto le cose giuste che ha fatto però è vero ha raccontato che ha fatto il suo dovere però qua vediamo che si nasconde un punto fantastico un punto assai semplice ma veramente molto molto profondo ogni confessione qua veniamo a imparare deve avere un'introduzione una prefazione alla confessione perciò prima di arrivare a Yom Kippur ascoltatemi bene il giorno prefissato da millenni come il giorno del perdono che Dio ha detto questo è il giorno del perdono e noi facciamo le confessioni perché è il giorno di confessare a Dio in silenzio tra noi e Dio ed è il giorno che noi auspichiamo e siamo sicuri che Dio ci perdona però prima di arrivare a quel fatidico giorno all'anno che il Kippur dove Dio ci dà l'occasione di perdonare i peccati e di confessare i nostri peccati prima di arrivare a quel giorno ci deve essere un'altra confessione che è quella scritta nella parashah della prossima settimana perciò quella confessione cos'è? che ci fa sapere che siamo persone buone che ho fatto il mio dovere che ho un forte potenziale perciò il confessarsi non è soltanto dire questa è la novità il confessare non è soltanto dire ho peccato sono brutto sono cattivo e non è solo questo anzi non è proprio questo non è questo il modo di confessare prima di arrivare al giorno di Kippur dove noi elenchiamo tutti i peccati possibili immaginari anche se non l'abbiamo fatto noi ma è nella lista dei peccati e noi li pronunciamo ma prima di fare questo dice la Torah tu devi essere consapevole tra te e te che sei un bravo ragazzo che sei una brava persona perciò questo vidui questa confessione strana che diciamo ho pagato ho fatto e sono a posto non ho trapassato quello che tu mi hai detto non vuol dire che non è una confessione è l'inizio della confessione vuol dire che tu mettiti in chiaro nella tua testa che sei a posto che sei bravo che hai fatto quello che devi fare hai pagato le tasse hai un potenziale fai il tuo dovere e così via se invece una persona pensa tra sé e sé ma io non valgo niente sono un peccatore e anche l'anno scorso ho peccato le stesse cose quest'anno le ripetute sono senza speranza Dio non vorrà mai più vedermi ascoltarmi perdonarmi dice la Torah non puoi veramente confessare perché confessare deve avere diversi requisiti che adesso andiamo a spiegare fantastico questo punto cari amici qua la Torah ti sta dicendo prima di arrivare a Kipur a fare le confessioni dei peccati tu devi fare un inizio di confessione prima di tutto metti in chiaro tra te e te che sei a posto che sei positivo che ce la puoi fare e non dire ormai sono un caso perso perché se tu pensi tra te e te che sei un caso perso non potrai la tua confessione di Kipur non aveva quel valore se non hai prima capito tra te e te quanto veramente vali sembra un paradosso un controsenso ma questa è la bellezza della Torah e andiamo avanti nella spiegazione abbiamo detto che per fare a Kipur devi avere diversi requisiti numero uno tu devi sapere che hai la libertà di scelta tu hai deciso di peccare Dio ti ha messo davanti il peccare e il non peccare tu cosciente padrone delle tue azioni hai deciso non vuole ascoltare voglio trasgredire sei padrone della tua vita per fare quello che vuoi adesso quando tu hai scelto di sbagliare ti prendi le tue responsabilità vuol dire che nessuno ti ha obbligato a fare questo peccato e non venire a dire che sei vittima del tuo passato delle sofferenze che hai avuto da bambino dei tuoi traumi del maestro cattivo della mamma troppo severa eccetera eccetera delle tue amicizie sbagliate no la Torah ti dice tu devi essere capace di capire che sei padrone delle tue azioni non puoi dare la colpa a qualcun altro a qualcos'altro no vuoi pecare pecca però rispondi si responsabile che tu hai scelto di peccare adesso per chiedere scusa guardate la psicologia la grandezza di questa di questa lezione di questa idea della Torah che dice che per chiedere scusa devi capire e ammettere che non sei un perdente non sei un perdente un poveraccio ma io sono un poveraccio non posso fare altro no proprio al contrario proprio quando capisci quanto sei valoroso e quanto hai potenzialità perciò il vidui che facciamo settimana prossima ti dice patichiare amicizia lunga prima di tutto capisci che tu sei a posto e che tu hai voluto sbagliare e che tu sei padrone delle tue azioni ed è proprio questo il modo che io posso chiedere scusa perché se io dico che sono vittima del mio passato non mi sentirò mai colpevole non capirò che ho sbagliato se io dirò che è colpa delle mie amicizie non capirò mai che io ho sbagliato era colpa loro perciò tu prima di capire che hai sbagliato devi capire che veramente vali tanto vali tanto però hai sbagliato siamo umani non siamo mica angeli gli angeli non sbagliano Dio non sbaglia noi umani sbagliamo però devi capire che tu hai voluto sbagliare che nonostante che sei mentalmente sano che sei forte che sei coscienzioso hai voluto sbagliare benissimo però l'hai fatto tu non sei stata una vittima di qualcun altro che ti ha indotto a peccare numero due devi essere cosciente che un domani oggi domani tu potrai cambiare tu potrai prendere la vita in mano e dire basta voglio smettere di sbagliare voglio smettere di peccare domani domani ho la forza di cambiare e ovviamente se non credi in te stesso non potrai farcela perciò l'idea è uno prenditi le tue responsabilità sappi che sei tu e non qualcun altro numero due sappi che è tutto in mano tua se vuoi cambiare le sorte della tua vita è tutto in mano tua però se tu non ti apprezzi e non ti interessa di aggiustare la tua situazione la tua vita allora non riuscirai mai a fare la confessione finale dici tanto non valgo niente ma cioè se ai tuoi occhi non vali niente non potrai chiedere scusa perché non te ne frega più niente sguardo la parola non valgo niente continua a non valere niente un esempio una persona ha una camicia bianca pulita candida stirata dal tintoria appena presa se cade una goccia di di gelato al cioccolato lui gli dà fastidio perché la camicia è bianca pulita ogni minima macchia gli dà fastidio ma se la camicia è già sporca è già malodorante è piena di macchie una macchia in più una macchia in meno ma che se ne importa sono già macchiato ma cioè se tu nella tua testa sei macchiato sei un perdente sei un peccatore sei un fanullone sei un caso perso davanti a Dio è sbagliato perché non ti ne importerà di chiedere scusa perché? perché ormai sei così sporco un po' in più un po' in meno almeno mi godo la vita faccio i peccati e godo dici no prima di andare al cospetto di Hashem il giorno di Kippur il giorno più importante dell'anno intero fai quel vidui che ti fa capire quanto sei pulito quanto sei bravo quanto sei valoroso davanti a Hashem allora quando tu capisci veramente quanto vali puoi veramente chiedere scusa perché? perché ti dispiace vederti la camicia sporca perché in realtà tu capisci che sei pulito e non ma chi se ne importa chi se ne importa non potrai mai chiedere scusa perché? non ti importa di sbagliare non ti importa di peccare teshuva e questa è la differenza che vediamo tra la teshuva nel cristianesimo e la teshuva nell'ebraismo nel cristianesimo almeno così mi sembra di capire la teshuva è pentiti il pentimento cosa comporta? rimorsi di coscienza sentirsi male sentirsi in colpa nell'ebraismo tutto questo non esiste nell'ebraismo ti si dice non pentirti ti si dice fai teshuva torna a Dio per tornare a Dio non hai bisogno di rimorsi di coscienza non hai bisogno di sentirti in colpa ma proprio al contrario proprio al contrario devi capire quanto vali per poter cambiare e chiedere scusa il male che noi abbiamo dentro di noi cosa ci dice? proprio il male che noi abbiamo dentro di noi ci dice fai schifo vergognati sei brutto hai peccato perché? perché il male che noi abbiamo dentro di noi vuole metterci questa tristezza addosso vuole le aspil vuole buttarci giù per farci sentire male perché? perché lui non vuole che noi facciamo teshuva il male vuole che noi continuiamo a fare del male e lui sa che una persona quando si sente in colpa si sente male si sente di colpa cosa succede? è triste si butta giù perde confidenza in se stesso nelle sue capacità e allora il modo migliore di non fare teshuva è quello penitenza tutte quelle cose che abbiamo bene spiegato ma se una persona fa teshuva con gioia con amore verso Dio con self confidence che hai confidenza in te stesso credi in te credi che Dio ti può perdonare questo è il modo che la Torah ti dice di fare la teshuva di cambiare di ritornare alla tua vita cosa succede? noi abbiamo peccato è vero tutti pechiamo però possiamo sempre tornare indietro in che modo? consci che vagliamo che abbiamo veramente un'importanza in questo modo e possiamo sempre aggiustare tutto quello che noi abbiamo rovinato vi racconto un aneddoto no una storia vera una storia vera c'era questo ebreo al giorno di Kippur al tempio mentre tutti pregavano piangevano facevano le confessioni questo famoso le confessioni il vidui lui cantichiava tutto allegro leggeva le confessioni dei suoi peccati cantando con allegria tutti dicono ma cosa fai? anziché piangere ridi gioisci canti e vanno a dire al balcento guarda che c'è questo ebreo che si comporta in un modo strano il balcento va da lui il balcento va da lui dice cosa raccontami spiegami perché fai in questo modo? e lui dice così caro rebbe balcento dimmi una cosa se una persona lavora al palazzo reale e lui magari non è il cuoco magari non è nei posti alti ma fa l'uomo delle pulizie l'uomo delle pulizie che lava il pavimento del re pulisce il pavimento del re lui quando pulisce il palazzo reale piange o canta? e il balcento dice ovvio che canta è felice che ha l'onore ha il merito di pulire il palazzo del re e dice questo questo chassid dice la stessa cosa faccio anch'io quando io sto facendo le suppliche sto facendo le mie confessioni dei peccati io cosa sto facendo sto pulendo la casa di Dio e allora io sono felice mentre pulisco la casa di Dio non sono triste Dio è il nostro re cosa vuol dire questo? noi abbiamo studiato un'altra parasha vi ricordate che Dio dice farete per me un santuario io abiterò in voi non nel santuario Dio risiede nel cuore di ognuno di noi la casa di Dio è il nostro cuore allora quando io a Kippur sto dicendo tutti i miei peccati sto chiedendo scusa a Dio cosa sto facendo? sto pulendo il mio cuore sto pulendo la casa di Dio e allora sono gioioso che sto finalmente pulendo la sua casa allora canticchio questa storia fantastica ci fa capire che non è con la tristezza che noi torniamo a Dio ma è con la gioia certo piangere è una virtù una persona che piange perché ha peccato sicuramente è una virtù perché ha capito che ha sbagliato però quel pianto non è un pianto che ha perso la speranza al contrario è un pianto di emozione capisce quanto ha sbagliato quanto si è allontanato ma capisce quanto lui può tornare indietro con un po' di lavoro con un po' di impegno ma c'è un pianto non di disperazione ma un pianto di wow che bello piango di gioia perché ho la possibilità di tornare a Dio adesso c'è un'altra storia storia vera anche questa di questo rabbino che aveva uno dei suoi discepoli che purtroppo aveva lasciato la strada aveva smesso di essere studioso non faceva più le mitzvot si è allontanato dalla strada giusta succede un giorno questo rabbino sta andando per strada questo rabbino di altezza bassa va non era a Vrodal per chi lo conosce è un'altra storia va per strada e dall'altra parte della strada vede che c'è questo suo alunno quello che ha smesso di essere osservante però vede che l'alunno prima era nella sua stessa strada e l'alunno si è accorto che c'è il maestro cambia strada per evitarlo ma il rabbino era così contento di vederlo anche lui cambia strada per incontrarlo dice ciao come stai tanto che non ti vedo ma perché scappi da me perché cambia strada e lui fa maestro io mi vergogno di vederti mi vergogno di incontrarti perché mi sento in colpa perché sai ho lasciato la strada non studio più non faccio più le mitzvot e poi non c'è anche la kippah mi vergognavo di farmi vedere te senza senza la kippah e il rabbino gli ha dato una risposta sconvolgente ha detto vedi io sono un rabbino basso io arrivo soltanto al tuo cuore io leggo soltanto io guardo e leggo soltanto il tuo cuore il tuo cuore è un cuore ebraico il tuo cuore è con Dio io ti conosco ti ho cresciuto io so chi sei se da qui a qui io non guardo che tu hai la kippah non hai la kippah sono affari tuoi con Dio ma io il tuo cuore lo conosco e questa è una risposta da brividi ogni persona quando si guarda allo specchio anziché dire fai schifo a se stesso anziché dire non hai speranza ho sbagliato nelle mie azioni deve dire il mio cuore non ha mai tradito Dio certo non basta avere soltanto buoni sentimenti per Dio bisogna anche aggiustare le azioni assolutamente sì ma tutto sta nell'ottica di come guardi te stesso o come guardi i tuoi figli o i tuoi parenti di quelle persone che hanno bisogno di essere aiutati e incentivati a farti shuvah ma sicuramente non è con il disprezzo che tu puoi tornare a Dio o far tornare qualcun altro a Dio perciò qua vediamo che bisogna guardare sempre soltanto la parte positiva di ogni persona e di se stessi un'ultima storia le storie sono sempre fantastiche e con questa concludiamo la nostra lezione una volta un bambino cammello chiede alla mamma cammello questo ovviamente è un aneddoto dice mamma ma come mai noi cammelli abbiamo queste ciglia così buffe così lunghe a volte fastidiose e la mamma dice sai noi siamo nel deserto tutta la vita nel deserto c'è sabbia nel deserto c'è anche molto vento allora Dio ci ha creato in questo modo che le ciglia lunghe ci possono proteggere se viene un vento e si alza la sabbia che non ci dà fastidio agli occhi ok mamma mamma dimmi una cosa ma perché abbiamo queste gobbe così fastidiose brutte pesanti per la stessa ragione noi andiamo nel deserto facciamo lunghi lunghi viaggi abbiamo bisogno di un posto dove per avere una lunga scorta di acqua per poter resistere eccetera eccetera mamma mamma ma perché abbiamo le zampe così strane così brutte e dice ma nel deserto è pieno di cunette è pieno di sabbia di cose non c'è un terreno liscio e noi tutta la vita camminiamo nel deserto Dio ci ha dato tutte queste belle cose noi siamo speciali perché possiamo vivere nel deserto andare nel Sahara e tutte queste cose ci aiutano a vivere nel deserto allora il bambino dice alla mamma mamma se siamo così speciali per le ciglia per le zampe per questo per quest'altro e nessun altro animale può andare come noi mi spieghi perché siamo qui rinchiusi in una gabbia di uno zoo in piena città questa non vuole essere una storia che fa ridere ma è una storia che ci deve commuovere qui il bambino sta chiedendo alla madre ma con tutto quello che mi hai appena raccontato che noi siamo animali speciali che nessun altro animale può fare quello che noi facciamo ma perché siamo in gabbia allora anziché essere in questo zoo dovevamo essere nel deserto a fare i cammelli a vivere da cammello non qua chiusi a dipendere da qualcuno e a farci vedere i bambini a far divertire i bambini per un biglietto e questo è il concetto della nostra storia della nostra vita abbiamo grandi potenziali grandi capacità perché ci dobbiamo mettere in gabbia da soli con le nostre mani e bloccare la nostra capacità la nostra crescita la nostra bravura perché? è vero sbagliare è contemplato ma continuare a sbagliare? non capire di quanto vali? sottovalutare la tua capacità? questo no questo vuol dire mettersi da soli in gabbia quei due lì papà e mamma e figlio almeno qualcuno li ha messi in gabbia ma noi ci mettiamo in gabbia da soli con le nostre scelte sbagliate con la nostra non fiducia in noi stessi questa storia ci deve fare piangere di di brevidi di quanto noi a volte sbagliamo a non capire quanto veramente valiamo e vi voglio raccontare ancora un'altra storia IBM la grande società di computer eccetera eccetera c'era uno dei manager il più importante che una volta ha fatto un'azione sbagliata un investimento sbagliato ha fatto un qualcosa che ha fatto perdere 10 milioni di dollari alla compagnia era colpa sua perché lui ha sbagliato il giorno dopo si presenta dal capo dell'IBM dice capo vengo qua proprio a faccia bassa voglio dire che confessarti che io ho sbagliato per colpa mia hai perso 10 milioni di dollari e voi vedete che io ti ho portato le mie dimissioni perché io non merito più di stare qui non mi devi dare soldi non mi devi dare la buona uscita non voglio niente lascio lo spazio mi vergogno di me stesso grazie di tutto il posto è libero il capo dell'IBM dice cosa? io ho appena speso 10 milioni di dollari di insegnamento per te per darti una cultura per insegnarti qualcosa e tu cosa fai? vuoi andare via? ho appena speso 10 milioni per la tua educazione dove pensi di andare? questa è una risposta fantastica gli sta dicendo sbagliare fa parte del gioco tu hai sbagliato mi sei costato 10 milioni di dollari non sbaglierai più da questo sbaglio hai imparato dove vuoi andare? stai qua e ovviamente quando una persona si sente dire al capo stai qua lui comincerà a dare di più e di più e di più per il coraggio che il capo gli ha dato questo è proprio quello che Hashem ci dice cosa è successo? buh è scoppiata la luce da quanto santità era ok per fortuna che c'era un'altra luce questo è quello che la Torah ci dice la Torah ci dice hai sbagliato hai sbagliato però adesso hai imparato hai imparato la lezione dagli sbagli si impara si cresce e a volte addirittura è necessario andare un pochettino indietro a volte è necessario sbagliare però quando andiamo indietro tutto in diretta quando andiamo indietro a volte riusciamo ad andare ancora più avanti non guardiamo lo sbaglio e il peccato come un qualcosa di wow ho finito la mia vita quando noi sbagliamo cadiamo in basso dobbiamo riprendere la forza di alzarci e andare ancora più in alto di prima ricordiamoci cari amici Dio ci ama di più di quanto una madre ama il figlio che è nato dopo anni 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 di attesa un bambino che nasce dopo trent'anni di matrimonio o vent'anni di matrimonio quanto una madre lo ama lo ama con tutto il suo cuore è il suo unico figlio ma che l'ha aspettato tanto lo ama con tutto dice maestri Dio ci ama molto di più di quanto quella madre ama quel figlio e noi non siamo l'unico figlio noi siamo miliardi di figli eppure Dio ci ama impariamo ad apprezzare quello che siamo impariamo a capire quanto siamo importanti per Dio e quanto Hashem ci ama che possa Hashem veramente accendere tutti i nostri cuori che possa Hashem veramente darci un anno meraviglioso un anno pieno di braha in tutto quello che abbiamo bisogno un anno pieno di rifuashlema di guarigione proprio tutto tutto quello che abbiamo bisogno che Hashem possa darcelo Amen chiediamo a tutti per favore di condividere questa lezione e di aiutare tutte le persone a capire quanto valiamo Shabbat ciao a tutti